Partita rocambolesca quella di oggi tra due compagini che hanno alternato un primo tempo avido di emozioni ad un secondo al cardiopalma. Apre le danze al ventunesimo Rubecchini dalla distanza ma il tiro del classe 90 vola alto di poco. Al ventinovesimo Nottoli fa tutto bene ma al suo tiro sfiora soltanto il palo. Al trentanovesimo la svolta. Nottoli effettua un filtrante per Di Paola che si coordina, si porta la sfera sul destro e fredda Boasi. Ottima azione degli ospiti che giocano sul firo del fuorigioco e trovano il gol dello 0-1. Inizia il secondo tempo e si infiamma la contestazione nei confronti dell'arbitro per due presunti falli da rigore non segnalati. Al cinquantacinquesimo Zunino viene steso in aria sugli sviluppi del calcio d'angolo ma per l'arbitro è tutto regolare e si può continuare. Al sessantatresimo Valenti riceve un passaggio centrale ma viene tirato a terra. Anche questa volta l'arbitro non assegna al fallo e lascia proseguire l'azione. Vibranti le proteste in casa bianco-blu. Al sessantasettesimo ci prova Lembo ma il suo tiro vola di poco alto. Proprio nel momento migliore dell'Igorna colpiscono gli ospiti. Contropiede sgroppata di Zagaglioni sulla destra che si accentra, lascia partire lo shoot. Poco nulla può Boasi. È il gol del doppio vantaggio del Ghivizzano che a 20 minuti dalla fine si trova sullo 0-2. Partita finita? Assolutamente no. Passa solo un minuto e cavallone trova un euro goal da fuori area. Spiazzato il portiere classe 99 Signorini e Ligorna che si fa nuovamente sotto. È 1-2. All'ottantasettesimo il Lampo. Cross per la testa di Oneto che vuole in cielo. Batte difensore portiere. Incredibilmente Ligorna guanta il gol del pari. Ancora una volta con un giocatore subentrato dalla panchina del vice Andrea Mura. Ma le emozioni non finiscono qui. Tre minuti dopo è ancora una zuccata a prevalere. Questa volta di Dallosso. Colpo di testa pesante che vale 3 punti fondamentali per un Ligorna che punta alla salvezza ma vede la zona playoff sempre più da vicino.